Dove finiscono gli spicci? Possibile che non li trovo mai. Mi scusi? Prima che vada al bar a prendere l'elenismo o caffè perché le assicuro sono già nervosa, non è che avrebbe 5 euro da cambiare per il parcheggio? Un secondo, finisco di attivare la sosta e controllo. Lo vede il baffo viola? Sì. Ecco, io pago il parcheggio direttamente dal telefono. Paghi solo i minuti che utilizzi e puoi allungare la sosta anche da lontano. E come? Maicicero, il baffo viola che ti fa risparmiare sul parcheggio. Fino al 31 dicembre, parcheggia Taranto con Maicicero e paghi la metà. Conviene!